Cittadinanza Attiva Tutto quello che è innovazione tecnologica in sanità non può che non trovare il favore dei cittadini perché l'innovazione tecnologica riduce per esempio i tempi di attesa per determinate operazioni chirurgiche così come è sicuramente meno invasiva rispetto alla chirurgia classica. Bisogna sicuramente però in Regione Campania creare molte più sinergie e portare la Regione ad essere un po' più moderna da questo punto di vista perché abbiamo grandissime eccellenze, penso soprattutto tutto il comparto cardiovascolare della chirurgia cardiovascolare che è veramente un'eccellenza della nostra Regione. Dobbiamo probabilmente fare uno sforzo in più e soprattutto ha fatto uno sforzo in più di informazione nei confronti dei cittadini che devono pretendere determinate tecnologie, devono pretendere nuove tecniche di trattazione delle patologie perché questo significa restituire salute e benessere agli stessi.